Come sempre parleremo di sport in questa puntata raccontandovi però una storia diversa. Non parleremo dei miti o dei campioni del passato ma parleremo di una tragedia, la tragedia dell'Aiselle. Proprio perché in questi giorni ricorre il trentennale della tragedia, lo ricorderete, la finale tra Liverpool e Juventus che si è giocata in Belgio e che ha visto purtroppo morire 39 persone, la maggior parte erano italiani. Ci saranno come sempre i nostri filmati dall'estero, andremo in Argentina per approfondire la conoscenza di un grande artista italiano del Novecento. Sto parlando di Lucio Fontana, poi andremo in Australia, poi ospiteremo un personaggio che voi sicuramente conoscete, molto familiare. Sto parlando di Francesca Alderisi, volto noto di Rai Italia. Non mancheranno i nostri esperti di Info Community, torneremo a parlare di genealogia e araldica con il nostro esperto Pier Felice De Giuberti. Ultimo spazio, molto importante, dedicato alla lingua italiana. Oggi ci occuperemo della particella SE. È un elemento, lo sapete, fondamentale della nostra lingua. Però vi chiedo, già da adesso va scritto con o senza l'accento? Allora, lo scopriremo, anzi, i linguisti della società Dante Alighieri ci aiuteranno a non fare errori. Comunque, proveremo a non fare errori usando la particella SE. Allora, siamo pronti a cominciare. Come vi ho detto, sono passati 30 anni dalla tragedia dell'Aisel, una vicenda assolutamente nera che coinvolge non solo il calcio italiano, anzi, come protagonista, una pagina nera del calcio europeo. Non accendo la radio, vediamoci questo filmato e poi torniamo ad approfondire questa terribile vicenda. Visto dall'alto, uno stadio sembra bellissimo. Un luogo dove la gente si ritrova per correre, giocare a calcio, sudare, ridere, bere, gridare e fare il tifo. Mercoledì 29 maggio 1985. Questi sogni si sono trasformati in un incubo di violenza e morte. E questo stadio, oggi completamente rinnovato, è divenuto un vero campo di battaglia. Allora, io do il benvenuto a Francesco Caremani, giornalista e uno dei giornalisti più esperti proprio della vicenda dell'Aisel. Vi faccio vedere il libro, eccolo qua. Aisel, la storia, la verità di una strage annunciata. Eccolo qui il libro. Bentornato a Community, Francesco. Questo è un libro che ha fatto molto discutere. Vero? Innanzitutto spiegaci perché. È un libro molto discorso perché è dalla parte dei parenti delle vittime che non sono mai stati fatti parlare. Ancora dopo 30 anni si continuano a scrivere libri o a fare documentari senza mai interpellarli. È un libro che fa discutere perché io ho raccontato tutte le grandi piccole verità di quello che è successo quella sera ma soprattutto quello che è successo dopo perché l'Aisel purtroppo è una memoria non condivisa, una memoria spesso dimenticata perché c'è stato anche un processo, una sentenza che ha fatto giurisprudenza e tutto questo si è cercato di dimenticarlo e di cancellarlo. Perché ovviamente ci sono stati dei responsabili che ancora oggi si vergognano perché ci sono stati purtroppo anche dei comportamenti al di là delle responsabilità della tragedia che hanno fatto discutere e che io ho semplicemente sottolineato e riportato. Francesco, lo dico io anche perché ne abbiamo parlato prima, questo qui è l'unico libro ufficialmente riconosciuto dall'Associazione Familiari Vittime dell'Aisel. Vuol dire questo che i punti irrisolti sono praticamente tantissimi. È così? I punti irrisolti? Alcuni sono stati risolti di fatto perché comunque c'è stato un processo e ci sono stati delle condanne. C'è stata condannata l'UEFA, per esempio una sentenza come dicevo prima che ha fatto giurisprudenza perché l'UEFA non era assolutamente responsabile di niente, prendeva l'81% dell'incasso. Infatti nei biglietti di quella partita, soprattutto quelli della Curva Z, dietro c'era scritto che gli organizzatori non erano responsabili di eventuali incidenti. È come se io organizzo una festa in casa mia ma non sono responsabile di quello che succede. Dalla condanna l'UEFA è diventata corresponsabile invece di tutte le manifestazioni che organizza. Devo dire che la cosa che è rimasta ancora oggi con un grande punto interrogativo è perché i biglietti della Curva Z che dovevano essere sicuramente neutrali, cioè doveva essere un posto neutrale perché veniva dopo la marea del tifo inglese e poi c'era il niente, quindi poi dopo il niente la tribuna stampa. Perché quei biglietti sono finiti in Italia? Ecco, adesso poi approfondiremo questo problema che è proprio la Curva Z. Una parte di stadio maledetta lo faremo fra un po', però ti chiedo di aiutarci a ricordare che cosa accadde quella sera. Io lo ricordo, era il 29 maggio del 1985 e a Bruxelles si giocava la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. Lo stadio Aysel era, Francesco, già gremito due ore prima dell'inizio. Poi ti chiedo, che cosa è successo? Allora, nella Curva Z gli italiani entrano con circa due o tre ore di coda. Una piccola porta di 80 centimetri permette l'ingresso. Gli inglesi, dall'altra parte, vorrei ricordare, per sottolineare le responsabilità, lo stadio Aysel era il più grande a Bruxelles, quindi quello che consentiva un maggiore incasso, ma di fatto era addirittura il ristrutturazione. Gli inglesi entrano senza controllo nei settori vicino alla Curva Z. Si possono armare perché ci sono dei cantieri, quindi con le masserizie, bastoni di ferro, di legno e le casse di birra. Continuamente arrivano casse di birra ed entrano nei loro settori senza alcun controllo. Di là ci sono le famiglie italiane, non ci sono gli ultra della Juventus, ma le famiglie italiane, famiglie che sono venute a vedere la partita. E oltretutto ci sono anche stranieri, francesi, nord-irlandesi, belgi, alcuni moriranno perché fra le 39 vittime 32 sono italiane, le altre 7 appunto sono un nord-irlandese, se non sbaglio 4 francesi e 2 belgi. Succede che a un certo punto gli inglesi attaccano, fanno cadere la rete, i pochi poliziotti, perché ce ne erano pochissimi, scappano e succede la tragedia. 39 morti. Allora, per capire ancora meglio che cosa è successo, andiamoci a vedere la ricostruzione dei fatti in una clip tratta dalla storia. Siamo noi. Diverse ondate di tifosi del Liverpool inseguono i tifosi della Juventus nel settore Z, fino all'estremità degli spalti. Altri scappando si riversano sulla pista d'atletica. Anche i gendarmi scappano verso il campo. Una festa dello sport sta per trasformarsi in un incubo. Presi dal panico, un gran numero di italiani si ammassano nell'angolo più lontano e più basso del settore Z, contro il muro, uno sull'altro. Ma ormai la situazione sta per precipitare. Nello stadio Esel sono morte 39 persone. Tra le vittime anche due postini, due cuochi, tre medici, quattro studenti, un meccanico, un soldato, uno scolaro, un cameriere, un bidello, un contadino, un tassista, diversi negozianti, un fotografo di moda e un agronomo. Francesco Caremani, queste persone, 39 sono le vittime, sono morte come e perché? La maggior parte perché sono state chiaramente schiacciate dalla calca. Roberto Lorentini, il medico di Arezzo, che era oltretutto un mio amico di famiglia, lui salva, diciamo che si mette in salvo i cugini e il babbo. Ritorna dentro la calca perché tenta di salvare un piccolo ragazzino, 11 anni, probabilmente Andracasula, la vittima più piccola dell'Eisel, e muore schiacciato dall'ondata delle persone perché gli inglesi avevano questo meccanismo, questa specie di rito, il taking hand, cioè conquistare il territorio avversario. Quindi attaccavano e poi si ritiravano, attaccavano e si ritiravano. Naturalmente non avevano di fronte degli ultra che potevano capire questo atteggiamento e la gente impaurita, terrorizzata, scappava. Vero è però che nelle autopsie, quelle vere rifatte in Italia, non quelle fasulle fatte in Belgio, altra piccola verità di questa tremenda tragedia, hanno scoperto anche colpi di arma da taglio. Ci sono persone che sono cadute in terra perché comunque sono state colpite in testa o dalle lattine piene o dai sassi perché le tribune, quelle dello stadio Eisel, erano costruite su un terrapieno, quindi la curva Z, come gli altri settori inglesi, bastava calpestare in maniera forte e venivano via dei pezzi grossi che sono stati utilizzati come armi nei confronti degli italiani e quindi sono morti sia anche per schiacciamento perché sono caduti ma anche perché sono stati colpiti, alcuni anche con ferite di arma da taglio. Allora, quella sera i soggetti coinvolti erano tantissimi, allora i tifosi inglesi ne abbiamo parlato, i tifosi italiani anche, poi c'erano però le forze dell'ordine, c'era la Federazione Internazionale del Calcio, la dirigenza di tutte e due le squadre. Tutti questi soggetti che hanno partecipato sono più o meno colpevoli, chi più, chi tanto e chi meno. Francesco, tu a chi attribuisci le maggiori responsabilità? La responsabilità della tragedia dell'Eisel, oltretutto appunto sancite in un processo, nel processo di Bruxelles, sono degli hooligans inglesi che sono gli assassini materiali. I mandanti di questa tragedia, di questa strage sono le autorità sportive, politiche belghe e l'UEFA, indubbiamente, perché sono loro che hanno scelto lo stadio. Non li stai accusando tu ma è stato il tribunale, è stata la legge a dirlo. E' stato il tribunale, il tribunale ha condannato l'UEFA. E' chiaro che, nonostante le responsabilità, ovviamente, delle autorità sportive e politiche belghe, l'unico che alla fine in Belgio ha pagato, è stato veramente condannato, è stato il capitano Maillet, che era il capitano della guarnigione, della polizia dello stadio, quella sera. Sei poliziotti, sei, dividevano gli italiani dagli inglesi, la maggior parte era fuori, addirittura alcuni inseguivano un lato di salsicce, mancavano le pile nelle ricce trasmittenti per comunicare quello che stava succedendo. E quando gli italiani hanno tentato di sfuggire alla morte, quindi entrando in campo, hanno trovato poi quelli a cavallo che erano arrivati e che li stavano bastonando perché pensavano a un'invasione di campo e ancora non avevano assolutamente capito quello che era successo. Brevemente, questo settore Z, ne abbiamo già parlato, ma perché c'erano gli italiani? C'era un'altra curva, un altro pezzo di stadio che era riservato a noi. Perché stavano lì gli italiani, anche lì? Gli italiani non ci dovevano stare. Di fatto ancora, ecco, questa è una cosa che è rimasta veramente insoluta, noi lo sappiamo, pare che i biglietti fossero stati venduti a molte scuole calcio belghe e che questi biglietti poi fossero stati rivenduti, quindi bagarinati in Italia, alle agenzie. Tanta era la richiesta, parliamoci chiaro, Juventus Liverpool nell'85 era la finale del secolo e come dire oggi Real Madrid-Barcellona e si è trasformata nella tragedia del secolo. Si può dire, senza ombra di dubbio, uno spartiacque, cioè la perdita dell'innocenza del calcio mondiale. Certo, poi ne ha parlato tutto il mondo, non è stata una cosa solo europea. Francesco, la tragedia si consuma ben prima della partita. A quel punto però c'erano tantissimi cadaveri già nello stadio, eppure si gioca. Perché? Che cosa è successo? Che cosa succede? La Juve si riveste, Boniperti vuole andare via. L'UEFA dice no, fermi tutti, bisogna giocare. Per un motivo semplice, erano così disorganizzati. Uno dei problemi era la disorganizzazione, che devono chiamare l'esercito, i carri armati. Vogliono in qualche modo, come dire, evitare che dopo la partita ci sia una guerriglia, una guerra dentro Bruxelles. In realtà c'era stata perché gli inglesi ubriachi avevano messo a ferrofuoco la Gran Plus per tutto il giorno, quindi le avvisaglie le avevano avute i belgi, la polizia belga. Perdonami, anche un anno prima a Roma. Anche un anno prima a Roma, però di fatto non era successo. È andata bene. Anche perché c'erano 5.000 poliziotti schierati. Nella piccola Italia, nell'Italietta, c'erano 5.000 poliziotti schierati. In Belgio... Sei. Sei. Devono chiamare i carri armati, devono chiamare l'esercito per, come dire, garantire un deflusso tranquillo dopo la partita. Gli inglesi dicono, va bene, se si gioca però, perché anche questo è un dato importante, è partita vera, se no noi non giochiamo. Cioè non giochiamo una partita finta per l'ordine pubblico. Fatto sta che giocano solo per garantire di fatto l'ordine pubblico. Poi io lo scrivo, ognuno decide se quella Coppa ha un valore oppure no. Per me non lo ha, chiaramente. Al di là di come hanno deciso di giocare, hanno giocato perché era l'unico modo per evitare qualcosa di indicibile. Allora, potrebbe essere stata una scelta scelerata oppure no, ormai è tardi per parlare di questa cosa, però vediamo questo filmato che ricostruisce esattamente la decisione di far scendere ugualmente in campo le due squadre. In una situazione del genere l'istinto viene a dire ma non giochiamo, rimandiamo, vediamo. perché poi, sai, sono tutte cose difficili da prendere la decisione, no? Improvvisamente il ministro italiano, Michelis, con voce ferma in francese, disse ma chi è che comanda qui? Chi è il responsabile? Calò un silenzio generale. Il sindaco accanto a me si girò e mi indicò dicendo lui, il generale. E io ho detto subito la partita si deve giocare. Poi ho aggiunto prima però mi dovete dare il tempo necessario per far arrivare altre forze di polizia. Risposero che andava bene e così la partita è stata giocata. E Boniperti, il presidente, ha detto va bene, se voi volete così noi giochiamo. Ha detto ma la partita è valida, il punteggio, insomma, è valida. Allora c'erano anche quelli del Liverpool e hanno detto se noi giochiamo noi vogliamo giocare per il risultato vero. E quelli dell'UEFA hanno detto sì, il risultato che viene fuori è valido. Allora per la cronaca la partita è finita 1-0 per la Juventus che vince la Coppa dei Campioni. Però sono molte le polemiche nei giorni seguenti perché pare che molti giocatori abbiano festeggiato nonostante sapessero quello che è successo. Allora la domanda che ti faccio Francesco è lo sapevano o no che c'erano i morti? Lo sapevano. Lo sapevano, hanno sempre negato perché purtroppo Boniperti voleva che raccontassero questo. Per fortuna Stefano Tacconi invece ha sempre squarciato quel velo di omertà. Sapevano perché i feriti si erano recati addirittura dentro gli spogliatori della Juventus e il medico sociale li aveva curati e gli avevano detto non giocate perché ci sono dei morti. C'è un aspetto secondo me come dire due momenti da separare. Quello della sera perché come giocano la partita per l'ordine pubblico anche la Juve torna in campo per l'ordine pubblico. Cioè vogliono portare via gli inglesi mentre i tifosi della Juve guardano i giocatori con la Coppa. La Coppa era stata consegnata addirittura in una specie di bara cioè in una scatola di legno fondamentalmente ma gli dicono andate fuori e fategliela vedere così loro stanno calmi e noi portiamo via gli inglesi che vengono rimpatriati tutti. Cioè vengono completamente rimpatriati non vengono fermati controllati per quello che è successo ma rimpatriati. Il problema è il giorno dopo quando arrivano a Torino all'aeroporto di Casselli e purtroppo Sergio Brio prende e alza quella Coppa. Pare che qualche tifoso juventino abbia anche festeggiato per le strade di Torino anche se il sindaco aveva già proclamato. Non solo a Torino. Non solo a Torino. Non solo a Torino. Allora a distanza di molti anni ripensando a quella sera c'è però un giocatore che è andato controcorrente questo giocatore è Marco Tardelli vediamo questa clip. Ma era proprio necessario andare a festeggiare dopo la finale sotto la curva? 25 anni fa forse sì adesso non è 25 di più e vedendo questi filmati non dovevamo farlo. Non dovevamo farlo l'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa. Ma ve l'avevano chiesto? No, i tifosi non è che ce l'avessero chiesto No, i dirigenti. No, i dirigenti non ci avevamo chiesto niente. i tifosi ci avevano chiamato sotto la curva e ci siamo andati e in quel momento probabilmente sembrava giusto festeggiare anche se sinceramente noi non sapevamo il grande la grande tragedia il livello proprio il livello della tragedia ma in questo momento chiedo scusa. Allora Tardelli ha chiesto scusa Francesco è una frase che tu hai sentito pronunciare da altri giocatori della Juve? No, solo da Tardelli e mi ricordo quella trasmissione mi ha colpito molto per un aspetto io da ragazzo ero tifoso della Juve non che il tifo è una cosa che ti rimane addosso in qualche modo poi diventi giornalista fai un percorso e guardi le cose con una prospettiva completamente diversa dopo 25 anni come dire io non accetto le scuse semplicemente perché non sono io che le devo accettare mi ha colpito perché Emanuela Casula che ha perso sia il padre che il fratello è rimasta colpita da queste scuse perché in 25 anni da parte della Juventus nessuno aveva mai detto quella parola scusa scusa che è una parola semplice però allo stesso tempo anche forte visto quello che è successo lo ricordiamo 39 vittime le famiglie sono state assistite in quel momento poi sono state risarcite oppure no? Le famiglie non sono state assistite tant'è che Otello Laurentini che appunto è il padre di Roberto del medico di Arezzo non sa che cosa fare vuole giustizia col consiglio di un avvocato decide di fondare l'associazione perché in questo modo come dire alleandosi fra di loro potevano portare avanti un processo stiamo parlando del 1985 prendere l'aereo per andare a Bruxelles aveva un costo portare avanti un processo in una città straniera aveva un costo enorme quindi le famiglie italiane si mettono insieme con un giovane avvocato Italo Begga che era consulente all'epoca dell'ambasciata italiana a Bruxelles Daniel Vedovatto in primo grado vengono tutti assolti allora decidono di citare direttamente l'UEFA e vorrei spiegare questo aspetto allora l'UEFA aveva i suoi grandissimi avvocati gli inglesi addirittura gli hooligans venivano difesi dai più grossi avvocati del foro di Londra c'era un solo avvocato che difendeva i familiari delle vittime hanno citato l'UEFA l'hanno fatta condannare in appello e in cassazione hanno avuto risarcimento ma non è mai stato chiesto dai familiari delle vittime semplicemente perché la legislazione belga prevedeva in quel caso che la parte civile fosse parallela alla parte penale e poi di conseguenza quindi quando l'UEFA è stata condannata di fatto è stata condannata anche al pagamento e ai risarcimento che sono stati calcolati con la legge belga che è una legge molto restrittiva oltretutto perché direi anche giustamente come principio generale non vuole che ci si arricchisca con le tragedie veramente una giornata maledetta allora noi vogliamo chiudere questo spazio con il racconto di una donna semplice il suo nome è Beatrice Martelli che in questa tragedia ha perso pensate il figlio Franco un ragazzo che aveva solo 22 anni vediamo non è che andiamo a vedere le partite non ci andiamo non ci andiamo perché io ormai a quest'età non sarei più capace di stare in mezzo tanto guardiamo la partita sono preoccupatissima poi quando vedo che segnano faccio tutta allegra così come se io fossi Franco capito c'è sempre Franco che Franco chissà quel che avrebbe fatto in quel momento e se perde mi dispiace un'ultima domanda Francesco ma in questi 30 anni ti ricordi a parte questa tragedia che credo sia veramente la peggiore altre vittime del calcio e poi detta così mi correggo è anche veramente un'espressione sbagliata purtroppo sì perché in pratica 4 anni dopo nell'89 96 tifosi del Liverpool clamorosamente muoiono schiacciati e la cosa incredibile è che dopo 26 anni in Inghilterra ancora devono stabilire le responsabilità di quello che è successo a Sheffield all'Isboro Stadium nel 1989 io però una cosa la dico se gli inglesi invece di reagire in un certo modo e quindi di vergognarsi nascondersi e criticare poi la scelta di squalificare le squadre inglesi avessero riflettuto attentamente su quello che era successo all'Israel cioè le modalità la disorganizzazione forse Isboro oggi sarebbe solo il nome di uno stadio e non di un'altra tragedia la cosa clamorosa è che l'Italia che era il paese delle vittime ha una lista di morti tra virgolette da stadio incredibile come se non l'avesse mai imparato ma non l'ha mai imparato perché in Italia purtroppo hanno cercato tutti di cancellare e di dimenticare Allora grazie a Francesco Canemani grazie davvero per averci aiutato a ricordare questa tragedia questo come dire difficile però doveroso evento